Cresce la preoccupazione sul territorio pertenopeo per gli episodi di violenza che in questi giorni si stanno susseguendo in alcune aree della città. Dopo i due omicidi che si sono verificati a poca distanza nei dintorni di Piazza Garibaldi lo scorso weekend, stanotte due ferimenti all'arma bianca hanno macchiato di sangue le pietre di Napoli. Il primo, poco dopo mezzanotte, si è verificato in pieno centro storico, lungo via Santa Chiara. Secondo le prime informazioni disponibili, lì un 34enne originario del rione Sanità sarebbe stato accoltellato dai gnoti mentre camminava, a impugnare le lame alcuni sconosciuti. Medicato all'ospedale Pellegrini, l'uomo è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni per ferite all'avambraccio destro. A indagare sul caso sono i carabinieri, che seguono anche un secondo fatto di sangue, che ha coinvolto stavolta una donna, ferita sempre a colpi di lama nella notte in via Galileo Ferraris. I militari sono intervenuti all'ospedale del mare poco dopo l'una e mezzo, a ridosso dell'accettazione della donna al pronto soccorso. Stando alle informazioni rese disponibili, pare che la vittima sia stata colpita con un'arma da taglio alla coscia, all'avambraccio e alla spalla, da una extra comunitaria per motivi di viabilità. L'esatta dinamica è ancora in fase di chiarimento. La 33enne è ricoverata in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.